Lo spettacolo del rugby internazionale ad Acquiterme. Sabato 15 maggio dalle 14.30 presso il Centro Polisportivo di Monbarone si daranno battaglia l'Acquiterme Rugby Club, il Borcomanero Rugby San Marco, l'Isana Rugby Club e il Killarney Rugby Football Club. Ospite d'onore dall'Irlanda. Emozioni, divertimento e sportività. Sabato 15 maggio, ore 14.30, Centro Polisportivo di Monbarone. Grazie a tutti.